Gli A.C.T. hanno fatto il comeback giapponese Porca vacca Ma perché ti dobbiamo chiccare? Madonna Sto facciando con il trappo no? Non so come se è la canna quella la Oh mio dio me l'aiuto? Si Porca miseria Reaction proprio Reaction Che marca sempre in mezzo Certo Madonna Cosa? Piccolino Un win win Il tuo amico? Il tuo amico? Oh me l'hai visto Giovanni è mezzo biondo Era dietro me l'ha aperta bianca Oh Con la sega pure Scusa Ma questo video è un po' Nooo Sono brava in fallegnami Ma cosa? Che buon guy Scusa dov'è Luca? Sono ancora uscito Ma è il mio sito in 127 E allora ottimo Sono tranquilla allora Più o meno Oh Oh Ah si questa cosa è del trailer Ma era due angolo Adesso si Che bello adesso Bello Iscrivo Ma sei altri cinetico? Si Ma cos'è? Ma come si chiama quella cosa in me nulla? L'abbiamo uscito Ma fammi uscito L'abbiamo uscito Mi devi dire che ha una fumaria Beh sembrava il coso della morte Usiamo il tubo di scarlo Ma è Beh Ma questo è un lato Un lato Che bello Si senti che è già fai Un lato E ci sono le altre Un lato E invece un reazione Esatto Una reazione aspetta chi arriva? nessuno deve arrivare no perchè c'era una macchina bella così bella no comunque pensavo diverso non ha funzionato neanche il lucas eh no i 127 non li hanno quello che ha detto Mark è sempre in mezzo ma si è sempre in mezzo ma si infatti perché i 127 rimangono fissi vabbè li è finito vabbè Taeyong al solito simpatico fortuna che mancava lui la cosa era un po' meno problematica vabbè tu cosa dici? no devo dire che aiuto vabbè ma è perché anche perché aveva quel fascino non lo so e Jayang vabbè va Jayang e Jayang doyang top vabbè comunque fateci sapere nei commenti se siete n-citizen quella cosa là non mi so mai dire il nome di quella roba n-citizen avete quello che volete che il vostro bias se è il vostro ultimate group claudia sappiamo che è il tuo o no sì vabbè a parte questo ci vediamo prossima video ciao